via marozza zona parco bucci appartamento al primo piano con ingresso soggiorno cucina separata balcone bagno finestrato tre camere da letto al piano terra invece troviamo un ripostiglio che può essere utilizzato anche come autorimessa per un utilitario una piccola macchina o bici beh cosa stai aspettando per venire a vederla ciao sono alan di garone immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita grazie a tutti sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri ci vediamo in visita